Ivan Zajdjev a gente che si dava una mano quindi la sensazione è ottima e non potevamo chiudere meglio questa tre giorni di Firenze con cui davanti a questo splendido pubblico E adesso? E adesso due settimane di stacco stacchiamo un po' la testa ci rilassiamo un attimo per poi ricominciare al massimo con la testa all'Olimpiadi visto che per tanti di noi è la prima per qualcuno di noi è la quarta quindi tutti ci teniamo a fare bene ci teniamo come dire lo sappiamo che l'Olimpiade non possiamo sbagliare